Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in una nuova puntata di Minecraft, no no, Startcraft, sì, giusto, io già me l'ho dimenticato, infatti dobbiamo ringraziare Silvia, si, Silvia che ha suggerito il nome, tanti avete suggerito dei nomi, c'era Marvincraft, perché non l'abbiamo ottenuto, anche se sarete 50 milioni di commenti, perché comunque è una delle più ovvie, quindi noi, secondo voi, noi non l'avevamo pensato Marvincraft, certo, però, non si, magari più la vedremo, ma siccome è tanto ovvio, esatto, esatto, e non ci piacciono le cose ovvie, quindi abbiamo deciso di Marvincraft, poi avevo visto i commenti e c'era questo di Silvietta, Silvia, non so come si chiamino, in realtà, come cazzo poi che si chiamino? Mi sembra pure Giovannuzzo, va bene, scemo, e niente, quindi Startcraft perché? Perché è l'inizio di Minecraft, è la prima volta che noi giochiamo a Minecraft, queste sono le prime volte in Minecraft, quindi lo Start, si manda lo Start, bando alle ciance, vogliamo iniziare? Avete visto che cosa ha in mano il mio personaggio di Minecraft, ragazzi? Avete visto? È un piccolo di diamante! Perché non l'avesse visto? Ho fatto un'escursione in una grotta, bravo, vedi? Cioè lui gioca e manco registra il furbone. Oh, ma io gioco anche per i fatti miei, allora andiamo nelle ceste, per chi se lo chiede adesso, ho dovuto mettere il letto qua perché là dentro mi diceva che era vicino ai mostri, quindi non potevo dormire. E io lo rompo. No, 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 non fare cazzate, apri, no, no, questa non è la, qual è la ceste? Qual è la ceste? Quello là sopra che non mi lo fa prendere se ti levi, ok. Guardate un po' che roba, qua c'ho un diamante, perché erano, non ho presi quattro, ho trovato anche oro, ho trovato anche pietra rossa. Inghiotto d'oro. Inghiotto d'oro, ho trovato la pietra rossa. Pietra rossa, pietra rossa. Lapislazzuli che li ho, li ho fatti diciamo in qualche blocco, l'ho blocchizzato. Carbono in quantità industriali. Industriale. Industriale. Cioè, aspetta, però tipo qua un anziano non può mai salirla. Non può mai salirla. Poi ci metti un corrimano o qua si ammazza una persona. Sai che un paio di volte sono caduto e mi sono fatto male, perché mi fai male da lassù. Eh, bravissimo, quindi devi fare un corrimano. Esistono i corrimani su Minecraft? Cioè, dai, c'è di tutto. Esistono, chiudi la botola? Non ci so mai, dici tu. Certo. Esistono, diciamo, le staccionate? Che non sono corrimano, come? Ah, guardate che ho fatto. Ham! Ham, Ham, Ham! Oddio, c'è un frecciaiolo. Prendi la spada. Ma dove? Prendi la spada, lì davanti. Minchierà, si confondeva con la mia. Che cazzo l'avevo preso? Guarda quanta frecce ci ha dato. Sì, perché sei distratto, tu. Fai vedere quello che ho fatto. M, M. No, questo, parole. Ma M è più bello della merda che ha fatto là. M, no, di merda, di Marvin Tube. Poi poi dobbiamo farci le finestre. Allora ce le facciamo, basta che chiudi la porta perché ho paura che entra qualcuno. Tac! Ah, ok, posso dire una cosa? No. Ok. Bene, continuiamo allora. Molti di voi, nei episodi precedenti, ci hanno detto che per far crescere i semi, questo è un ponticello che l'ho fatto per camminare. Ah, ok. Serviva l'acqua accanto alla terra. Serviva l'acqua accanto alla terra. Che cosa ho fatto io? Mi sono fatto un secchio. Tac. Per adesso è vuoto. Ho preso l'acqua normale e ho riempito acqua. E ora andiamo a raccogliere un po' di semi e li piantiamo. E li piantiamo. Dove li piantiamo i semi? Qua. Oh, guarda quanti. Ah, ma io sono un coglione. Forse un po' di semi ce li ho conservati. Eh, che se un coglione lo sapevamo già. Forse. Che scorreggio è uscito dalla bocca, non sono la faccia di buona. La danno compresso, qualcuno schiacciato nella sera. Perché guarda la mia forbizia. Io ho fatto pure una cesta là e una casting table. Apri qua e io ho messo tutte le cose da, diciamo, da agraria. A posto, dai. La rosa. Oh, papavero. Ah, papavero. Non lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Io non mi ricordo se dovrei avere una carota. Secondo te la carota si può piantare? Io ho un cetriolo se si può piantare. Andiamo a vedere se la carota si può piantare. Chiudi. Bravo, bravo. Complimenti. Ah, che bello il giorno. Prova a speppiare la, 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 la zappa. Prova a prendere la carota. La carotina. Mettitela. No, vuoi la carotina. Prenditi anche i sani. No, vuoi la carotina. No, vuoi la carotina. Non si può piantare la carota, vedi? Sì, l'abbiamo piantata. Ottimo. No, vuoi la carotina. Pianta, pianta, pianta. Ma tu pensi che carotona che deve crescere? Sì, ora, lo sai che devi fare? Devi passare dal ponticello, perché non puoi scafazzare i semi che ha appena piantato, no? Per questo io l'ho messo intelligentemente. E ho anche messo le scale per salire. Perché è qua, no? Perché devi arare la terra. Ok. Ma che cazzo è una crociera? No, non è una crociera, scusa. Sì, ci sono le crociere sono... Allora, andiamo a prendere quella mucca che è da giorni che è là. È quello? Una mucca. Dico, eh, Skyrim dove i cavalli scalavano le montagne e la gravità non esiste. Allora, non so se te lo ricordi, ma anche negli episodi scorsi c'era quella mucca là. Allora dobbiamo ammazzarla. Dobbiamo ammazzarla, però con la spada. A colpi di piccolata no. E non ho il coraggio di ammazzarla. Guarda che carina. Un colpo in testa io. Vedi che accade, non muore. È morta. Minchia, ma è morta. Per la caduta... Carne! Per la caduta di merlino! Che cazzo? Ci facciamo l'armatura. Eh, come si fa? Non lo so. Questo è il bello. Andiamo a vedere forse col ferro, con l'oro, nella graffin table. Andiamo in casa. Sì! Sì! Casco! Elmo di ferro. Casco. Cazzo abbiamo la moto. Eh, i pantaloni. Cioè... Il pantaloni c'è pure il... No. Che cazzo è la grata di... No, mi dici che ho fatto le barre di ferro. Togli questo qua? Un altro casco, però... Ma che cazzo? Aspetta. Tutto. No, è il blocco di ferro. Ma... Come cazzo si possono fare i pantaloni? Oh, bingo! Te lo sto per dire! Sì, certo. Ma l'hai fatta. Minchia, io sono un fottuto genio. Eh, scusate, che cos'era che poco fa era spuntato con una cosa? Un mutande. Ragazzi, siamo dei robot! Con la barba! Un gira, un gira, un gira, un gira, un gira, un zeta. Maia... No, che ho fatto? Annulla. Annulla. Un c'è maiale corazzata. Ok, ragazzi. Eccolo! Avete visto un maiale con la barba e la corazza? Io sì, ora. Ora sì, ragazzi. Quindi, ragazzi, sei il quest... Sei il... Sei il questo! Sei il... 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 La malattia. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, un pollice in su. Ricordate sempre di consigliarci delle robe, tipo che se volete vedere nel prossimo episodio quella cosa, scrivetelo! Bravo! Eh... Ricordate che noi registriamo più di una puntata alla volta, quindi se non vedete i vostri consigli, registrate la puntata successiva. Le vedrete dopo! Le vedrete dopo, perché... Capite che noi non abitiamo assieme, quindi quando ci vediamo facciamo più di una puntata. Eh... E poi diteci cosa fare con gli ossi, ragazzi, con le ossa. E poi andatene tutti a fang... Ciao! 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 Grazie a tutti.